State abbandonando la vita da pirata con l'intenzione di iniziare una carriera militare nella marina? Il vostro scopo però è di giocare una soluzione mista evitando i leader puri? Quale sarà allora il personaggio della saga che potrà aiutarvi in questo intento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Con OP02 un nuovo colore giunto sui tavoli da gioco, il nero che attraverso i suoi due leader di rappresentanza, Smoker e Sakazuki dello starter, ha fornito agli aspiranti re dei pirati diversi stili di gioco, incentrati come sempre sulla dinamica della riduzione costo. Ma oltre ai monocromatici appena menzionati, anche un terzo leader si è unito alle danze dando la possibilità a chiunque ne vestirà i panni di usufruire di due tonalità, nera per l'appunto, con l'unione del colore rosso. Garp infatti vi consentirà di mescolare pirati e marine in uno scontro senza precedenti dove queste due fazioni, costantemente in guerra tra loro, faranno fronte unico, combattendo assieme per garantire all'eroe della marina e di conseguenza a voi la vittoria finale. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Garp rosso-nero. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che nel vostro turno andrà a diminuire il valore di un character con costo pari a 7 o inferiore sotto il controllo avversario di tante unità quanti don assegnati allo stesso Garp o ai vostri personaggi. Davvero molto sinergico, soprattutto in combinazione con altre carte del mazzo che faranno di questa meccanica un punto forte. Ma non solo, perché nonostante possa sembrare un'abilità prettamente correlata al colore nero, l'assegnare dei don risulterà una costante utilizzata per qualsiasi deck allo scopo di aumentare la potenza dei propri character o leader, e perciò partiremo, a differenza delle profile passate, proprio da quegli elementi che faranno dell'assegnazione di almeno un don per l'innesco dei propri effetti una condizio sine qua non. Le tre copie di Luffy a costo 2 ci daranno il benvenuto in questa decklist. Con 3000 punti di forza nella vostra fase principale, una volta per turno, Cappello di Paglia potrà vedersi assegnare due donne esauriti, evitando inoltre di essere distrutto in battaglia da personaggi avversari con tratto strike. Una carta che, in un contesto come quello di riduzione costo proveniente dall'effetto del leader, potrà fare la differenza soprattutto come supporto per l'entrata in gioco dei Marine che saranno a vostra disposizione. Altro tris per Nico Robin, che con i suoi 4000 punti di potenza a costo 3 potrà, quando attaccherà assegnandogli un singolo don, mettere KO un character avversario con forza pari a 3000 o inferiore. Il terrore di tutti i blocker di basso costo. La studiosa della ciurma di Cappello di Paglia il più delle volte è stata utilizzata come esca per attirare su di sé le risorse avversarie, permettendomi così di utilizzare liberamente un altro character del mazzo, che vedremo fra poco, che vi tornerà molto utile ai fini della strategia di gioco. Duetto per Smoker, il fumoso non solo non potrà essere messo KO dagli effetti delle carte, ma attraverso l'assegnazione di un singolo don guadagnerà un pericolosissimo doppio attacco fin tanto che ci sarà un character con costo pari a 0 sul terreno. Inoltre con i suoi 7000 punti di forza a costo 5 potrete impiegare il vice ammiraglio della marina già dai primissimi turni di gioco, sinergizzando al meglio con l'effetto del leader che di sicuro ridurrà per quel che basta il costo dei personaggi rivali. Il tris di Barba Bianca infine chiuderà questo reparto. Forza 10.000 a costo 9 quando il possessore del frutto Gura Gura entrerà in campo andrà ad aumentare di ben 2000 il valore di potenza del leader fino al vostro prossimo turno. In più assegnandogli due don in fase di attacco andrà a mettere KO un character avversario con potere pari a 3000 o inferiore. Barba rappresenterà per voi una delle chiusure assieme allo smoker appena visto dato che con i loro attacchi metterete in seria difficoltà le difese rivali. Ora dopo aver visionato le carte che faranno dell'assegnazione dei don un punto cardine vediamo quegli elementi che non solo riprenderanno questa dinamica ma possiederanno anche un valore di 2000 counter a supporto da utilizzare nei momenti delicati di un match. Garp a costo 2 in 4 copie sarà il primo più 2000 in fase di counter con 3000 di forza segnandogli i due don quando attaccherà andrà a mettere KO un personaggio avversario con costo pari a zero. Garp sarà inoltre una presenza sulla board da mantenere assolutamente e grazie all'esca precedentemente menzionata rappresentata da Robin il vecchio anche grazie all'effetto del leader vi permetterà più volte di fare piazza pulita di quegli ostacoli che vi separeranno dalle vite rivali. Tre copie per Brook che possedendo gli stessi valori di counter costo e forza di Garp una volta che entrerà in campo vi permetterà di assegnare due donne esauriti ad un vostro character o leader. Utilissimo allo scopo finale del deck anche lo scheletro di solito l'ho utilizzato soprattutto nelle fasi finali di un match per fare presenza sulla board e allo stesso modo potenziare i miei personaggi. Un validissimo coltellino svizzero da utilizzare a seconda della situazione. Bene prima di passare alla fase offensiva vediamo cosa sarà a vostra disposizione per difendervi dagli assalti rivali attraverso un reparto blocker di tutto rispetto. Altro tris per Chopper che a costo 1 e 1000 di forza possiederà la sola parola chiave blocker a supporto. Personaggio che nelle primissime fasi di una partita andrà ad arginare le offensive rivali come meglio potrà. Quartetto invece per Borsalino che oltre alla sua abilità difensiva nel turno avversario andrà a guadagnare ben 1000 punti di forza impedendo inoltre a chi vi giocherà contro di metterlo KO attraverso gli effetti delle proprie carte. Uno dei character più forti della sua categoria dato che a costo 4 con 5000 punti di forza potrà anche all'occorrenza minacciare le vite rivali. Piccolo spot in più per le 3 copie di Nami a costo 1 e 2000 di forza che vi consentiranno di andare a cercare nel mazzo quelle risorse necessarie per velocizzare la strategia di gioco dato che appena entreranno in campo vi permetteranno di visionare le prime 5 carte dalla cima del deck mostrandone una contratto straw hat crew aggiungendola alla mano riposizionando infine le restanti 4 in fondo al mazzo nell'ordine che vorrete. Ma se non vi convinceranno potrete optare per le altre Nami quelle dello starter che una volta per turno nella vostra fase principale andranno ad assegnare ad un character o un leader sotto il vostro controllo un don esaurito. Di certo una scelta che se attuata si sposerà meglio anche con l'effetto dello stesso Garp. Passiamo ora al blocco di attacco che oltre ai già visti Smoker e Barba vedrà ulteriori tre personaggi unirsi alla battaglia. Le 4 copie di Kobe apriranno le danze. Costo 3 e 4000 punti potenza quando scenderà in campo scartando una carta andrà a mettere KO un character avversario con costo pari a 3 o inferiore. Perfetto se pensato in un'ottica di riduzione costo perpetuo. La triplice copia di Kuzan a costo 4 quando verrà giocato vi permetterà di pescare una carta dalla cima del mazzo ed in fase di attacco andrà a ridurre di ben 4 unità il costo di un personaggio rivale. Anche qui con i suoi 5000 punti di forza oltre a rappresentare una minaccia per le vite rivali andrà ad agevolare le meccaniche dell'intero deck facilitandovi nell'abbattere colossi con costi elevati presenti sul terreno rivale. Le altre tante 3 copie di garpa a costo 5 chiuderanno questo reparto character. Con 6000 in termini di forza la controparte del leader vi permetterà nella vostra fase principale scartando una carta e settandolo in stato di esaurito di mettere KO un personaggio nemico con costo pari a 4 o inferiore. Di certo il vice ammiraglio vi potrà tornare utilissimo in combinazione con molti elementi presenti nel mazzo dato che anche attraverso l'utilizzo dell'abilità del leader per voi distruggere cose non risulterà poi così difficile da fare. E quindi dopo aver visionato l'intero reparto character passiamo agli event che vedranno la bellezza di 12 carte che vi aiuteranno nelle diverse fasi di un match. Il quartetto di Radical Beam ci darà il benvenuto in questo compartimento. A costo 1 in fase di counter andrà ad aumentare di ben 2000 il valore di forza di un character o leader sotto il vostro controllo conferendogli altrettanti 2000 punti se possiederete 2 o meno vite in gioco. La sua abilità trigger inoltre riprenderà la prima parte dell'effetto aumentando in questo caso di soli 1000 punti la forza degli alleati ma per l'intera durata del turno. Uno degli event rossi con rapporto costo beneficio migliori in circolazione al momento. Altre 4 copie per Meteor Vulcano che a costo 2 nella vostra fase principale vi permetterà di mettere KO un personaggio rivale con valore di evocazione pari a 1 o inferiore con anche qui un trigger che vi consentirà di pescare 2 carte scartandone di seguito una dalla mano. E non mancherà occasione di spaccare cose sul terreno o in modo naturale bersagliando ad esempio dei Momonosuke, dei Capone o delle Bonni o attraverso la diminuzione dei costi date le varie carte presenti nel deck leader compreso. Le ultime 4 unità di Impact Wave chiuderanno questa decklist. A costo 2 in fase di counter potrete aumentare di ben 4000 punti la forza di un character o leader sotto il vostro controllo andando di seguito a mettere KO un personaggio avversario con costo pari a 3 o inferiore. Anche qui la presenza di un trigger andrà a riprendere la seconda parte dell'effetto della carta bersagliando però in questo caso degli elementi rivali con costo pari a 4 o inferiore. La carta Event a mio parere più forte di questo colore che non solo salvaguarderà i vostri alleati ma allo stesso tempo se sarà possibile toglierà di mezzo delle eventuali minacce sotto il controllo di chi vi giocherà contro. Quindi dopo aver visto l'intera lista passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? La procedura per farlo muovere sarà semplice dovrete assegnare Don ai vostri alleati per poi attraverso l'utilizzo dell'effetto del leader e i marine distruggere i vari elementi sul terreno avversario. Stop! Questo mazzo non farà altro quindi divertitevi come vorrete mettendo a ferro e fuoco qualsiasi cosa si muoverà dall'altra parte della plancia di gioco. Una cosa che volevo aggiungere inoltre è Garp non sarà un leader che viaggerà sulla parte alta dei tier quindi prendetelo almeno per ora come un mazzo per passare del tempo. Per la fase offensiva saranno a disposizione i Luffy a costo 3, i Garp sia a costo 2 che a costo 5, le Nico, i Cobby, i Kuzan, gli Smoker e soprattutto i Barba che daranno una spinta non indifferente alla manovra di attacco dell'intero deck. Per la difensiva questo mazzo disporrà di un reparto composto da 7 Blocker, 3 Chopper e 4 Borsalino che vi torneranno utili per salvaguardare le vostre vite dagli assalti rivali nelle fasi iniziali e centrali di un match. Trattando invece l'argomento mano iniziale le carte da vedere il prima possibile saranno le Nami di OP-01 o dello starter, i Luffy, i Cobby e i Blocker qualunque essi siano con una presenza sempre gradita di qualche event. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece come già detto questo non sarà un deck chissà quanto performante ma nel complesso potrete rendere la vita difficile ai vostri avversari se avrete letteralmente qualsiasi cosa in mano aggiudicandovi a volte anche la vittoria finale. Per la win condition quella che ho personalmente testato sarà con una buona dosi di fortuna avere almeno due garpa a costo 2 sul terreno assegnandogli Don per diminuire il costo di character nemici attraverso l'effetto del leader spaccandoli di seguito innescando gli effetti dei due eroi della marina per poi attaccare le vite rivali con i colossi che si impiegheranno in campo. Mentre saranno a vostra disposizione la bellezza di ben 12 event che vi permetteranno di controllare la board di chi vi giocherà contro aumentando allo stesso tempo in certe occasioni anche i valori di forza dei personaggi o del leader sotto il vostro controllo. Infine per la fase counter ci saranno 7 più 2000 vedasi 4 garpa a costo 2 e i 3 brook che nel 60% dei casi verranno giocati e 17 più 1000 che vedranno le Nami, i Luffy, le Nico, i Cobin e i Borsalino dare un leggero supporto in fase difensiva ma conderrete con me che sarà meglio impiegarli in campo piuttosto che tenerli in mano. Nel mazzo saranno presenti 7 blocker che fungeranno da scudo per le fasi iniziali e centrali dell'incontro, 7 personaggi con counter pari a più 2000, 17 con valore pari a più 1000, 12 event che controlleranno la board avversaria oltre che a supportare gli alleati presenti in gioco, una fase offensiva davvero ben strutturata e sinergica per far funzionare al meglio l'effetto del leader e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Sono certo che chi vorrà provare questo deck di sicuro si divertirà, non raggiungendo magari le vette alte della classifica ma facendosi odiare dai propri rivali quel che basta spaccando a pugni l'intera plancia di gioco. E voi vestirete i panni dell'eroe della marina pronti per farla vedere a chiunque vi si pare raccontro? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.